le mura venete di crema perdono i pezzi è crollato anche un torrione in servizio una porzione di ciò che rimaneva del torrione foscolo delle mura venete è crollato pochi giorni fa in via stazione a crema non si può certo dire un evento inaspettato era sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono delle mura venete già da decenni del torrione esiste solo il ricordo certificato da un solitario cartello una parte del bastione delle antiche mura venete non è caduto sotto i colpi di orde nemiche ma è crollato a causa di un paio di temporali intensi i vigili del fuoco hanno già delimitato tutta l'area del torrione e messo in sicurezza la zona si tratta di un'area piuttosto frequentata ma fortunatamente il crollo è avvenuto senza coinvolgere nessuno la parte residua del glorioso ex torrione versava in condizioni a dir poco pietose come del resto tutti i tratti sopravvissuti delle mura venete erette tra il 1488 ed il 1509 dopo che le precedenti difese della città erano state rase al suolo dalla sedio del barbarossa le mura venete che crema avrebbe voluto vedere inserite tra i siti patrimonio dell'unesco perdono dunque i pezzi c'è stato nel giro di poche ore anche l'interessamento da parte della giunta comunale una comunicazione è stata data dall'esecutivo del sindaco stefania bonaldi l'assessore ai lavori pubblici fabio bergamaschi se interessato del problema rilevando che il tratto di mura venete crollate sono di proprietà privata quindi sotto la tutela e responsabilità del privato l'assessore ha comunque attivato la polizia locale e l'ufficio tecnico comunale al fine di verificare la necessità di mettere in sicurezza l'area nell'immediato per motivi di incolumità pubblica e sollecitare il proprietario alla messa in sicurezza definitiva anche per preservare il patrimonio storico architettonico della città Grazie. 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 Grazie.